Positivo all'alcol e a tre diversi tipi di droga, si schiantò con la moto a Caltanissetta contro un'auto che proveniva dalla direzione opposta, provocando la morte del 32enne nisseno Andrea Alessi, seduto come passeggero dietro di lui. Un 41enne di Caltanissetta è stato condannato a sette anni di reclusione per omicidio stradale. L'incidente si verificò nel pomeriggio del giorno di Pasquetta dello scorso anno.